Praticamente Nokia presentò l'N9 che era l'apice dell'innovazione del design finlandese e in realtà proprio della telefonia mondiale Aveva un sistema operativo completamente rivisto, Symbian, basato sulle gesture, cosa che prima dell'iPhone era una roba totalmente innovativa Quindi questa era proprio la risposta ad iPhone, è interessante proprio le interazioni Proprio per dare un po' di contesto, questo N9 aveva tantissime innovazioni che poi iPhone ha copiato successivamente Il monoscocca, il fatto che lo schermo di vetro era stondato ed era tangente al resto della scocca Appoggiavi agli speaker Nokia e passavi la musica Ma tra l'altro aveva il display OLED tipo nero e quindi tutta la interfaccia era sul nero per risparmiare batteria E posso dire una cosa, questo telefono qua è ancora oggi secondo me uno dei più belli fatti Molto intelligente come il design finlandese, scandinavo solitamente